Quando affrontiamo un problema di dinamica, facciamo sempre riferimento alla seconda legge della dinamica, quella che dice che l'accelerazione subita da un corpo è direttamente proporzionale alla risultante delle forze ad esso applicate ed inversamente proporzionale alla massa del corpo. Di solito noi però scriviamo questa relazione usando questa versione. La risultante delle forze applicate a un corpo è uguale al prodotto della massa per l'accelerazione che viene prodotta in quel corpo. Questa relazione, come si nota, è una relazione vettoriale, quindi questo vuol dire che l'uguaglianza di due grandezze vettoriali implica il fatto che siano uguali non soltanto dal punto di vista dei moduli ma anche dal punto di vista delle direzioni e dei versi. Ed è su questo che si basa il ragionamento che normalmente si fa per passare da questa scrittura a questa che poi sempre utilizziamo per la risoluzione dei problemi. Quando diciamo la sommatoria delle componenti x delle forze deve essere uguale a mx e la sommatoria delle componenti y delle forze deve essere uguale a m a y. Perché possiamo fare questo? Beh, perché essendo questi due vettori, primo e secondo membro, uguali, saranno uguali soltanto quando le loro componenti x e y saranno uguali. Dunque questo in genere è sufficiente per motivare questo passaggio e questo modo di iniziare ad affrontare i problemi. Però in questo video io vorrei andare un po' più a fondo e cercare di giustificare meglio questa proprietà che noi sempre usiamo. Quindi cominciamo a esaminare una situazione semplice, quella in cui l'unica forza applicata al corpo sia la forza F. A questo punto il secondo principio diventa F uguale a m per a, essendo F l'unica forza applicata. Quindi stiamo trattando il caso di una sola forza applicata al corpo. Beh, come noi sappiamo, una grandezza vettoriale come la forza F può essere scritta nella sua scrittura cartesiana, utilizzando le sue componenti. Quindi dicendo che il vettore F sarà dato dal prodotto di Fx, la sua componente lungo l'asse x, per il versore dell'asse x, più Fy per il versore dell'asse y. Ora, la stessa cosa succede anche per l'altro vettore coinvolto, cioè il vettore accelerazione, che quindi può essere scritto come il prodotto di Ax per il versore x, più Ay per il versore y. Quindi, andando a riscrivere la relazione F uguale a m per a, che cosa otterremo? Otterremo al posto di F questa scrittura, quindi Fx versore x, più Fy versore y. Poi c'è l'uguale, e poi m per a, quindi m che moltiplica il vettore accelerazione, Ax versore x, più Ay per il versore y. Ora sviluppiamo a secondo membro questo prodotto. Che cosa avviene? Beh, al primo non cambio nulla, Fx versore x, più Fy per il versore y. A secondo membro, otteniamo m per Ax, moltiplicato per il versore x, più m per Ay, moltiplicato per il versore y. Ora, come si diceva, i due vettori, i due membri sono uguali, quindi ciò che a primo membro è davanti al versore x, deve essere uguale a ciò che a secondo membro è davanti al versore x. Quindi questa relazione diventa Fx, componente della forza lungo l'asse x, uguale m a x. E lo stesso ragionamento vale per il versore y. Quindi ciò che è davanti al versore y a primo membro deve essere uguale a ciò che è davanti al versore y a secondo membro. E dunque scriveremo Fy uguale m a y. E questa è appunto la relazione che normalmente utilizziamo per risolvere i problemi, passando quindi da questa relazione a quest'altra. Ora è chiaro che se aggiungiamo forze il problema resta solo semplicemente più complicato, ma il concetto ormai è raggiunto. Ad ogni modo proviamo, se mi volete seguire, a esaminare il caso di due forze. Consideriamo dunque una situazione in cui abbiamo due forze applicate. Avendo applicato due forze, che cosa vuol dire? Vuol dire che la risultante delle due forze sarà semplicemente la somma vettoriale di F1 più F2. La risultante di queste due determina l'accelerazione sul colo. Ognuna di queste due forze però può essere scritta nella sua forma cartesiana, quindi possiamo avere F1x versore x più F1y versore y e ho scritto F1. Poi più F2, quindi più F2x versore x più F2y versore y. Il tutto questo sarà uguale a che cosa? A m che moltiplica a x versore x più a y per il versore y. Molto rapidamente sviluppiamo e raccogliamo a primo membro, quindi che cosa otteniamo? F1x più F2x per il versore x, quindi ho considerato questi due termini, questo e questo. faccio la stessa cosa per i termini con la y, quindi più F1y più F2y moltiplicato per il versore y. E tutto questo secondo membro da m a x versore x più m a y versore y. Ripetiamo il ragionamento di prima, ciò che è davanti nei due membri al versore x viene ora messo in evidenza e quindi questo vuol dire che F1x più F2x deve essere uguale a m a x. stesso ragionamento però con il vettore y, quindi ciò che è davanti al versore y, chiedo scusa, ciò che è davanti al versore y, a secondo membro, deve coincidere con ciò che c'è al primo. e quindi otteniamo F1y più F2y uguale a m a y. Ed ecco qui allora nuovamente la traduzione della seconda legge della dinamica, relazione vettoriale, in una coppia, in un sistema di relazioni scalare. E' ovvio a questo punto che se avessimo non due ma n forze, tutto questo verrebbe riscritto in questo modo. La somma di tutte le componenti x delle forze deve essere uguale a m a x, la somma di tutte le componenti y deve essere uguale a m a y. Ho voluto esplicitare in maniera un pochino più chiara quale ragionamento che si compie quando si passa da una relazione vettoriale, come la seconda legge della dinamica, a una coppia o una terna di relazioni scalari, se per caso stiamo studiando un moto nello spazio. Grazie.